Tra i risultati, rivendicati con maggiore orgoglio dal presidente Marco Marsilio, dopo l'approvazione della legge di stabilità regionale del bilancio di previsione 2024-2026, c'è il risanamento dei conti. La sanità, che in Abruzzo vale 2,7 miliardi di euro e rappresenta la fetta più consistente del bilancio regionale, era uno dei versanti più a rischio dopo che l'emergenza Covid e il caro energia avevano prodotto un pesante aggravio dei costi. Proprio per questo, Marsilio ha tenuto ad evidenziare che anche quest'anno la sanità abruzzese ha chiuso in pareggio senza peraltro fare ricorso a risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal Fondo Sanitario Nazionale. Un dato non scontato, ha sottolineato Marsilio, dal momento che altre regioni sono state invece costrette ad incrementare l'IRPEF per far quadrare i conti delle ASL. Anche l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri esprime la propria soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi e traccia un primo bilancio. Innanzitutto noi abbiamo presentato un bilancio, abbiamo fatto riferimento a quella che è la somma storica in quanto non ancora siamo a conoscenza di quali saranno i fondi aggiuntivi del sistema sanitario nazionale per quanto riguarda poi la ripartizione della nostra regione perché aspettiamo la legge di bilancio a livello nazionale. Un anno importante perché non solo si chiude con un equilibrio di bilancio, nonostante quelli che sono stati i costi che noi abbiamo avuto, costi aggiuntivi che continuiamo ad avere perché abbiamo assunto maggiore personale per il Covid e quindi li abbiamo tutti stabilizzati attraverso proprio un percorso di rinserimento di queste unità importanti, non solo ma anche bisogna tener conto di quelli che sono stati i costi dell'energia che noi abbiamo coperto. ma diciamo quanto arriva il bilancio si tira anche una somma di quello che è la realtà del sistema sanitario regionale della nostra regione che ci vede come esempio per molte altre regioni che hanno le difficoltà delle regioni piccole così come lo è l'Abruzzo. Abbiamo avviato e portato a termine tutti gli obiettivi prefissati, ossia rete ospedaliera, rete territoriale, programma operativo approvato, grandi apparecchiature, concorsi per i primari. Restano però alcune criticità a partire dalle lunghe liste di attesa ma anche su questo fronte Veri si dichiara fiduciosa in merito alla possibilità di risolvere i problemi. Resta la gestione che perché è stata tra i primi e fondamentali delibere, prima e fondamentali delibere che io ho voluto, quello dell'abbattimento delle liste di attesa che purtroppo durante poi il Covid è aumentata quella che è la lista ma con questi obiettivi che abbiamo dato e con fondi finalizzati recupereremo anche questo gap.